Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. C'è una timida apertura di Conte verso Renzi con un lungo post su Facebook, ma i renziani rispondono contano i fatti, non i post in internet. E il PD invoca decisioni responsabili. Sembrerebbe che si è arrivati a un punto di non ritorno. Il governo probabilmente è al capolinea. Nelle ultime ore dai corridoi di Palazzo Chigi c'è un'indiscrezione. Come scrivo Marco Antonellis su faritaliani.it, Conte sarebbe disposto a dimettersi per scalancare le porte al Conte Terzo. Però, perché il Premier porrebbe una condizione ben precisa per dimettersi e aspettare di essere rinominato Conte Terzo, terza volta Presidente del Consiglio. Per le dimissioni di Conte al condizionale dipendono da una dichiarazione di fiducia di Renzi. Detto altrimenti, prima di dare il via al Conte Terzo, il Premier vorrebbe essere certo di incassare il supporto dell'ex sindaco di Firenze. Quindi Conte vorrebbe una sorta di patto, una specie di preintesa pubblica, perché non si fida di Renzi. Dice, mi fa dimettere dicendo che poi c'è il re in carico e poi va a dire a Mattarella che non vuole re, non mi vuole e vuole un altro Presidente del Consiglio. Quindi Conte dice, prima tu pubblicamente dici che c'è un patto per farmi rieleggere e allora io do le dimissioni perché tu l'hai detto di fronte al Paese, non puoi rimangiarti la parola. Ma perché Renzi dovrebbe dire, sì dimettiti che poi ti facciamo rieleggere? Che senso avrebbe? Capite che non ha nessun senso questo? Perché realmente se Renzi chiede a Conte di dimettersi è per eleggere un altro Presidente della Repubblica, ma realmente non è. Perché sennò rieleggere lo stesso che significa? Significa solo che con la nascita di un Conte Terzo bisogna rifare l'elezione di tutti i ministeri e rieleggendo tutti i ministeri naturalmente ci sarebbe posto per avere più poltrone per Italia Viva. Quindi la dichiarazione di Renzi che dovrebbe fare secondo Conte, ah guarda dimettiti perché pubblicamente ti faccio rieleggere, la gente direbbe perché dovresti farlo cadere per rieleggerlo? Per le poltrone? Quindi Conte sta praticamente dicendo pubblicamente di che vuoi un rimpasto per le poltrone e così vuoi farmi cadere per farmi rieleggere. Capite che questo non è fattibile da parte di Conte perché Conte non può, cioè Renzi non può fare una cosa del genere. Lui più volte ha invitato l'attuale Premier a dimettersi. Il leader di Italia Viva non sembrerebbe tuttavia essere intenzionato a cedere sulle condizioni poste dal Premier. Il ritornello dei Renziali è sempre lo stesso, prima le dimissioni del Premier poi vedremo il da farsi. Insomma i Renziali dicono dimettiti e poi vediamo e Conte dice no, prima mi prometti che mi fai di nuovo Presidente del Consiglio. Dopo due giorni di silenzio Conte fa delle dichiarazioni pubbliche e lo scrive fa un lungo post su Facebook dicendo che è imprescindibile rafforzare la coesione della maggioranza e quindi la solidità della squadra di governo. Dice questo il cuore del lungo post scritto dal Premier su Facebook. Poi Conte spiega che non è mai venuta meno l'apertura al confronto con le forze che sostengono l'esecutivo e annuncia che il recovery plan vi saranno più risorse anche per la salute, i giovani, la scuola e tante altre cose che il confronto sarà con l'intero Parlamento quindi anche con l'opposizione e il dialogo con le parti sociali. Aggiunge Conte se percorreremo questo cammino con senso di responsabilità avremo la più salda garanzia di andare nella direzione giusta perseguendo l'interesse generale. La nostra azione di governo dovrà rimanere sempre all'interno di questo perimetro mirata a sostenere e migliorare la vita delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, ad assicurare un futuro ai nostri giovani e poi aggiunge qualsiasi altra iniziativa o intervento che si ponga al di fuori di questo tracciato non mi appartiene e non mi riguarda. Questo è il limite che mi sono sempre imposto dall'inizio del mio mandato, dice e scrive su Facebook. Qual è stata la replica di Renzi? Dopo qualche ora del post del Premier sono arrivate le dichiarazioni di Matteo Renzi che dice che il Presidente Conte ha detto verrò in Senato quasi sfidandoci. Lo aspettiamo lì. Ha tuonato il senatore Fiorentino che in merito a un governo di scopo ha tagliato corto. Non esistono governi di scopo. I governi sono fatti per governare. Se Conte è in grado di farlo, lo faccia. Altrimenti toccherà ad altri. Considerano il post di Conte come un'apertura però a parole. Ma dicono che in politica contano i fatti e gli atti, le leggi, i documenti, non i post. Domani arriverà il testo e vedremo. Non si arretra di un solo centimetro. Fa notare una parte di Italia Viva. E poi Renzi dice che quando Conte è stato indicato come Presidente del Consiglio l'abbiamo indicato anche noi, pur di mandare a casa Salvini. Ma non si può governare solo contro. Adesso bisogna dare risposte alla crisi economica, ai soldi che mettiamo nel recovery che vanno ad aumentare il debito. E quindi se il governo è in grado di fare, faccia. Quindi non possiamo governare contro Salvini, dice. Ma adesso che stiamo governando, e Salvini l'abbiamo già accantonato, dobbiamo realizzare le cose, dice Matteo Renzi. Ma qual è la posizione del PD? Il PD deve iniziare al proprio interno, cominciando dai gruppi parlamentari. Un confronto approfondito sui rapporti in seno alla maggioranza e sull'azione di governo. Si riassume così la posizione del Partito Democratico. In queste poche righe, inviata da un gruppo di deputati e deputati democratici, al segretario Dem e al vice segretario nazionale, al capo delegazione nell'esecutivo e al capogruppo della Camera. E dicono l'ipotesi di elezioni anticipate non darebbe risposta al disagio degli italiani e risulterebbe incomprensibile a livello internazionale. E poi concludono l'azione dell'esecutivo non può bloccarsi tra veti e conflitti e il desiderio di evitare le urne non può portare a irrealistiche ed inequivoche combinazioni parlamentari. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.